Solo caffa arretrato, imitato da Schipper B. Prende velocità la macchina. Alla chiusura, Suzuki Gall, nei confronti di Sinfonia d'amore e con al largo Sir Drake parcheggia Schumi, poi Schipper B. Cavalià al completamento del lancio, in 14.2 per il targato Gall. E il Ganymede al completamento della piegata è avvicinato da Sir Drake, si elimina Sinfonia d'amore. E così ne rimangono in cinque, 400 iniziali in 31 e ora gradua a piacimento il leader e precede Sir Drake, Schumi, Pride, Schipper B chiude solo caffa. Si va dopo 600, passati nell'ordine del 47.2. E Cavallichia affrontano la penultima curva. Non ci sono variazioni sostanziali, poi ci pensa Glauco Cicognani a venire via con il suo targato B e si trascina solo caffa. Mezzomiglio tranquillissimo, in 1.4 e un po' di spicciolo, si viaggia intorno ad 1.20.5. E Cavallichia affrontano il penultimo rettilineo con Schipper B che ora va al Sanchi di Suzuki Gall, che completa il chilometro in 19.3.15 di frazione. Gruppo in un fazzoletto ai 500 finali, con Sujugi Gall, Schipper B, Sir Drake, Schumi e solo caffa. 14.5 di fronte, fanno 29.5 i 400, 1.33, 8 i tre quarti di miglio. E Schipper B ora fa sul serio, impegna a Sujugi Gall. Retta d'arrivo, torna alla carica Schipper B, va su Sujugi Gall, lo impegna, lo appariglia, si libera Sir Drake, galoppa il numero 3 Schumi, passa Schipper B, mentre Sir Drake è secondo, terzo, Sujugi Gall. 2.2.9.1.16.8. L'aveva annunziato in ordine Glauco Cicognani questo targato B, lo guida con consumata esperienza, ed è stato molto essenziale la sua guidata. Questo Ekinok B, i colori dell'azienda agricola Biasuzzi, ma il training è la guida del sempre espertissimo Glauco Cicognani. Sir Drake corre alla grande, trova il varco, ma ormai non c'era più tempo. Per il terzo, Sujugi Gall, su solo caffa. Linea alla regia. Grazie. Grazie. Grazie.